Oggi modificiamo insieme slime vecchi di 4 anni e di 3 anni. Ce la faremo? Insieme alla nostra ruota del mistero? Vediamo un pochino. Prima di scoprirlo, sigla! YOLANDA SWITZ Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono YOLANDA SWITZ ed oggi sono tornata con un video dove andiamo a modificare insieme degli slime che ho già pronti qui sul mio tavolo, sul mio piano da lavoro e sono praticamente questi. Io ne ho scelti 5, però ovviamente ne andremo a scegliere o 2 o 3 da modificare oggi in questo video con la nostra ruota del mistero e con tutti questi ingredienti che appunto la ruota sceglierà per noi. Se vi piacciono questi video dove modifico gli slime, mi raccomando, pollice in su lasciate un bel like, iscrivetevi ed attivate la campanella perché tutti i giorni alle 14.30 ci sono dei nuovi video. Prima di iniziare questo video vi ricordo che ci possiamo incontrare un incontro gratis il 14 e il 15 di agosto a San Nicolarcella in Calabria in provincia di Cosenza. Venite perché è gratuito, avrò la mia bancarella con gli miei slime e il mio merchandising dalle ore 20 sul corso Biagio allo Monaco. Facciamo un giochino. Qual è il vostro slime preferito? Giocate ancora con gli slime? Mi piacciono ancora gli slime? Fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro slime o qual è stato il vostro slime preferito nel corso di questi anni. Io mi diverto ancora con voi a fare gli slime, lo sapete che oltre un lavoro per me è una passione quindi andiamo adesso a modificare questi slime. Quelli che vorrei modificare con voi sono questo. Ragazzi questa è una sfida pazzesca perché ha anche la muffa quindi andrò a mettermi i guanti e vedremo un pochettino cosa combiniamo. Quello che vorrei modificare anche con voi è questo, che questo qua è vecchio ancora di più di 4 anni. Ok, adesso possiamo iniziare, abbassiamo la videocamera e andiamo a modificare questi slime insieme. Allora amici eccoci qua, piano inquadrato, slime presi. Il primo che voglio modificare con voi è questo, quello più difficile di tutti. Guardate qua questo slime è molto disastrato, questo era di Oshimi slime. Aiuto, 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 aiuto. Voi avete visto che ho fatto tutta l'unione degli slime ma alcuni li ho conservati proprio perché volevo fare appunto con voi la modifica. Allora io direi che la parte un po' più disastrata, ossia questa qui che non ho capito se è... Io credo sia muffa raga, non lo so, però la andiamo a buttare, la andiamo a togliere. Questo slime, nonostante abbia comunque i glitter, vedete? Ha i glitter anche molto molto carini, però è un po' disastrato. Ok, abbiamo preso il prendibile. Penso che vada bene, ho cercato di prendere il più possibile. Cota sceglierà ovviamente quale colla andare a mettere all'interno del nostro slime. Anche che sia colla trasparente o colla vinilica, va bene lo stesso per me in questo momento. Allora, colla trasparente, andiamo a mettere altra colla. Dobbiamo usare le cose per lo slime, ne andiamo a scegliere come sempre tre dalla nostra ruota. E piano piano li inseriamo all'interno. Vediamo un pochino, cosa possiamo mettere dentro questo slime ruota, cosa decidi? Il balsamo! Perché era veramente raga in condizioni pietosissime. Vediamo la seconda scelta della ruota, quale sarà? Uhu! Ed è lo shampoo! Mi mettevi altri ingredienti al di fuori di questi, forse era ancora meglio. E te pareva... Ogni volta esce ragazzi! Ogni volta questa dannatissima schiuma per capelli! Che poi è sempre questa dannatissima schiuma di 50.000 anni fa! Cosa utilizzare nello slime? Come lo dobbiamo fare? Di che colore deve essere? Vediamo un pochino. Aaaaah! Vediamo! Perfetto! Allora, azzurro! Ce la faccio a mettere una gocciolina? Ok, ce l'ho fatta. A voi non sembra, ma dal vivo è ancora più forte. La cosa che dobbiamo scegliere, che la ruota dovrà scegliere per noi, sono le decorazioni. Scegliamo sempre tre decorazioni per questo slime. Dai però! No, 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 no! La neve fits. Cosa uscirà? Va bene, va bene, va bene. Canes colorate, va bene, io vado a mettere alcune a forma di limone, perché ci sanno bene che mi piacciono. Quindi fits, ma dove devo fare lo slime fits? Eh, va boia! Vabbè, dai, 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 palline! Mi sta bene. Allora, io però prima vado un pochettino ad addensare lo slime. Quindi prendiamo il nostro liquido addensante. Vi ricordo che lo trovate sul mio sito, come sempre. Prendiamo il nostro liquido addensante ed andiamo ad addensare il nostro slime. Eccoci, allora, questa è la nostra neve fits. Vedete, questa qua è la neve. Sentite quanto è crunchy, ragazzi. Wow, farà lo slime super super crunchy. La andiamo a mescolare. Intanto abbiamo addensato appunto il nostro slime. Nel frattempo possiamo andare a lavorare lo slime appunto con le mani. Allora, direi che la missione è quasi completa. Vedete, ragazzi. Oh, è venuto uno slime tipo, che ne so, invernale. Oh, che ne so, ragazzi. Allora, questi ossicini qua che c'erano, vi devo dire la verità, li vado a togliere. Io direi che... Ancora, ma quante ne escono, ragazzi? È venuto proprio bene. Lo slime è veramente molto molto elastico. Allora, adesso lo metto sul mio piano da lavoro. Lo metto qui. E sopra ci vado a mettere questi. Uh, ma lo sapete che ci stanno proprio bene? Ma che belli, guardate che meraviglia. E poi ci voglio mettere queste palline. Ma così, raga, così. Va, vediamo un po'. Ma sì, dai. È bello perché è vario. Guardate qua, che meraviglia, ragazzi. Com'è venuto bello questo slime. Mi piace. Ve lo ricordate prima con la muffa? E vedete adesso com'è. Ragazzi, è venuto proprio bello, bellissimo. Non lo so, non lo so, mi sembra una bevanda. Wow. No, ragazzi. È spettacolare. Guardate qua, che meraviglia. No, vabbè, raga. È proprio super, super bello. La modifica, devo dire, che mi ha entusiasmato molto. Mi è piaciuta tantissimo. Alla fine, questa neve fits all'interno da un non so che di esotico. Allora, sono un po' indecisa adesso la seconda modifica che voglio andare a fare, sinceramente. Non so se modificare questo o questo. Secondo voi quale sceglierò? Allora, io vorrei modificare più questo. Allora, intanto io lo verso all'interno della ciotola perché, raga, immaginate tutte ste palline da cacciare fuori. Amici, non se puede creder, ma ce l'ho fatta, amici. L'ho cacciato dalla sua confezione. Dobbiamo solo essere fortunati adesso per quanto riguarda la colla. Allora, andiamo a versare la colla. Che colla ci uscirà? Io spero colla... No, vabbè, cioè... No, quando voglio colla trasparente mi esce colla vinilica. Versiamo la colla vinilica. Ne metto un pochino, eh. È un colore veramente orribile, vi giuro. Mamma mia, che colore bruttissimo. Guardate qua, che cosa orribile. Dobbiamo andare a scegliere le cose da mettere dentro lo slime. Almeno questo spero in una gioia. E non le palline. No, vediamo un pochettino. Raga, raga, raga... Eh, vabbò, eh. Non ci credo in Listerine. Vabbè, forse ci aiuta a rendere un po' più morbido lo slime. Poi, quindi, Listerine. Poi vediamo... Vabbè, dai. Bagno schiuma. Quindi Listerine e bagno schiuma. E come terzo, speriamo qualcosa di carino. Vediamo, non ci credo. Ragazzi, il borotalco. Listerine, bagno schiuma, borotalco. Questo è proprio un mappazzone, raga. Andiamo a scegliere il colore di questo slime. Che, ehm, ovviamente sceglierà la ruota. Non di certo noi. Speriamo in un colore bello e un colore forte. Più che altro. Oh, sì, ci piace. Ok? Ragazzi, ci piace? Ci è uscito il viola? Attenzione! Allora, il viola probabilmente ci aiuterà tantissimo, ma proprio tantissimo, a rendere questo slime migliore. Quindi, mettiamo una goccina di viola. Adesso, mettiamo da parte la ciotola e, raga, decorazioni. Penso che... Stop! Mamma mia! Sono stati gli slime veramente difficilissimi. Oh, no! Le Slushy Beads! Ok, Slushy Beads. Poi vediamo... No, ragazze, non ci posso credere. Vabbè, vabbè. Terza cosa. Quindi, Slushy, pom pom. E va bene, va bene. Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Questi sono gli Slushy Beads. Uno li vado a mettere adesso, che... E altri li vado a mettere a terra, no, Yolanda, eh? E poi dopo ci metto gli Sprinkles come decorazione. Questo è lo slime addensato. Devo dire che mi aspettavo un pochettino qualcosa di meglio. Però, va bene. Dai, alla fine non è brutto. Cosa ne pensate voi di questa modifica? È venuta anche molto elastica. È venuta, sentiamo, scoppiettante. Questo, quindi, è il nostro slime modificato. E, amici, allora avete visto? La modifica di questi slime? Come vi è sembrata? Sono stata brava? Non sono stata brava? Difficile? Non difficile? Fatemelo sapere giù in un commento, ovviamente. E niente, amici. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se volete altri video così, mi raccomando, lasciate tanti pollici in su. Così mi fate sapere che volete altre modifiche di slime. Ne ho tanti di slime vecchie di 4 anni. Quindi, fatemelo sapere sempre in un commento. Grazie mille ancora. Un bacione ed un abbraccio stretto. Noi, come sempre, ci vediamo domani alle 14. 20 e 30 con un nuovo video. Ciao amici!